Parte ufficialmente la regular season dell'Arezzo Calcio Femminile sotto l'egida della FIGC nella nuova Serie B a Girone Unico, una stagione particolarmente impegnativa che permetterà al club a rettino di calcare i più importanti campi italiani giocando contro storici blasoni del calcio femminile nazionale. In un weekend in cui prenderanno il via anche il campionato regionale Under 15 e il campionato nazionale Primavera, la prima giornata d'andata del nuovo campionato nazionale di Serie B vedrà Lea Maranto di Marx Lorenzini partire alla volta del capoluogo milanese per affrontare la gara esterna contro le Milan Ladies. Dopo quasi due mesi dall'inizio della preparazione ed un esordio non troppo fortunato con la Coppa Italia Femminile, capitantece e compagnie si avvicinano dunque al proprio battesimo di fuoco all'interno di una competizione estremamente livellata ed indiscussa qualità. Emozione e voglia di far bene sono le componenti di questa vigilia, ha detto il tecnico Lorenzini. Il conto alla rovescia è partito e in questi mesi abbiamo lavorato duramente con impegno per farci trovare preparati per questo primo importante appuntamento. Cercheremo di iniziare questo nuovo campionato nella stessa maniera con cui abbiamo terminato lo scorso, consapevoli che il livello della stagione sia notevolmente alzato e che ogni partita andrà affrontata come una finale con umiltà, determinazione e spirito di sacrificio. Questa prima gara sul campo delle Milan Ladies con Club De Lorenzini ci darà subito indicazioni sulla qualità che dovremmo poi esprimere nel corso dell'anno. Non sarà un esordio semplice ma ce la metteremo tutta per dire la nostra anche questa volta. E anche per questo campionato Arezzo TV seguirà da vicino, anzi vicinissimo, le gare dell'Arezzo Calcio Femminile con la telecronaca delle partite interne e la trasmissione del mercoledì alle 21 Mondo Amaranto che si occupa anche di calcio giovanile.